Le bonifiche a Taranto inizieranno dalle scuole del quartiere Tamburi perché tutti ritengono che la salute dei bimbi sia la cosa più importante, quindi dare ai bambini scuole sicure, energeticamente all'avanguardia, pulite e non inquinate, è la prima cosa da fare. Lo ha detto Alfio Pini, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, a margine di un incontro in prefettura. Il rione Tamburi è quello più ridosso dell'Ilva e degli altri stabilimenti dell'area industriale. Questo, ha aggiunto Pini, è dunque un progetto che sta andando avanti per conto suo e che speriamo dia risultati in tempi brevi. Per fare le cose però bisogna progettarle, bisogna fare, assegnare le gare. Noi vogliamo farlo nel rispetto assoluto delle regole, ha precisato. Il commissario per le bonifiche ha fatto presente anche che il percorso di lavoro è avviato e che l'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la città, la regione e tutte le forze che intervengono in questa operazione delicata, ma dovrà avere i risultati che ci attendiamo. Stiamo definendo, ha concluso, gli aspetti burocratici del problema e nel contempo si sta anche valutando l'opzione tecnica che poi dovremo mettere in atto. Intanto il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ha promosso una ciclopasseggiata, pederiamo insieme contro l'inquinamento, che si svolgerà domenica prossima 28 aprile per le strade del Borgo, partendo proprio dalla città vecchia. Nel Comitato, lo ricordiamo, fanno parte anche diversi dipendenti operai dello stabilimento ILVA. I partecipanti saranno forniti un numero identificativo e dei gadget in omaggio saranno premiati il bimbo più piccolo e la persona più anziana, il nucleo familiare più numeroso, la scolaresca più numerosa e anche la bici a tema più originale. Il raduno è fissato alle 9 e mezza in Piazza Castellò, con arrivo previsto alle 12 e mezza alla Pineta De Curtis.